Dopo una giornata piena di tensioni e di scontri, il Consiglio regionale d'Abruzzo, come è noto, ha approvato nella giornata di ieri, con i voti della maggioranza di centrodestra, la nuova rete ospedaliera abruzzese. E stamani gli esponenti del centro-sinistra, nel corso di una conferenza stampa, hanno sottolineato come, in cinque anni, la programmazione e l'edilizia sanitaria sono ancora sulla carta della Consigliatura Marsilio, hanno aggiunto ancora, non ricorderemmo opere ma solo annunci e debiti. La sanità, fra i tanti bleff del governo regionale del centrodestra, è quello più grosso e dà gli effetti peggiori per la comunità. Oggi i cittadini pagano servizi e prestazioni che non ricevono. Intanto in Abruzzo crescono le liste di attesa e di deficit delle quattro asle, arrivati ormai oltre 170 milioni di euro, come rileva anche la Corte dei Conti. Intanto hanno atteso cinque anni, nei quali non vi è stata alcuna programmazione e il prodotto di tutto ciò è stato purtroppo per i cittadini abruzzesi un venirmeno di tante cure. Liste d'attese infinite, una forte mobilità passiva per chi può permetterselo andando fuori regione, ai noi. E oggi, a cinque anni di distanza, approvano una rete per portare avanti una campagna elettorale, ma che non risolve alcuno dei problemi che abbiamo noi denunciato. Questa rete è in grado di risolvere, migliorando le cure per quanto riguarda gli abruzzesi, la programmazione dell'offerta? No. È in grado di attrarre nuovi professionisti in questa regione? No. È in grado di migliorare la qualità delle cure? No. Il prossimo governo regionale, noi auspichiamo a guida Luciano D'Amico, dovrà immediatamente rimettere mano a questa rete ospedaliera. A parte la mancanza di visione, è stato detto ancora, ci sono cinque anni di totale immobilità che hanno visto scendere qualità e quantità delle prestazioni della sanità abruzzese. Ma intanto bisognava approvare immediatamente il programma della rete ospedaliera, perché se tu hai cinque anni, se lo approvi all'inizio, hai diversi anni di fronte all'interno della legislatura per attuarla. E questo non è stato volutamente fatto. In secondo luogo bisognava investire sulle tante specializzazioni che si sono perse in questi anni, perché oggi si sceglie la qualità degli interventi. Il cittadino deve avere la possibilità di scegliere la qualità degli interventi e quindi devi specializzare la tua offerta sanitaria, territoriale, ma soprattutto ospedaliera. Tutto questo non è avvenuto a fronte di una mobilità passiva che è incrementata di molto e lunghissime file d'attesa.